La città di Pagani Non dimentica l'eroico sacrificio del tenente dei carabinieri Marco Pittoni In occasione delle celebrazioni del 2 novembre in corso Ettore Padovano L'amministrazione comunale in sinergia con l'arma dei carabinieri Hanno depositato una corona d'alloro dinanzi al luogo nel quale Quel maledetto 6 giugno del 2008 il tenente dei carabinieri Marco Pittoni Moriva per salvare tanta gente comune nel tentativo di una rapina all'ufficio postale La città di Pagani non dimentica il sacrificio del tenente Pittoni Questa mattina in occasione del 2 novembre questa cerimonia sobria in corso a Ettore Padovano Per ricordarlo Sì è una cerimonia che sentiamo nel cuore al di là della ricorrenza dei defunti Perché per noi credo che il suo gesto sia un punto di riferimento sempre vivo Per quello che ha fatto e non soltanto immolando la propria vita Per evitare che altri potessero perire o potessero rimanere feriti Nel corso di un eventuale conflitto a fuoco che poteva derivarne Ma anche per quello che è stato e per quello che ha voluto significare Per tutto l'agronocerino sarnese